Attilio Romita ha ritrovato Mimma fuori dal GF e mi ha fatto portare le chiavi di casa. Attilio Romita e Mimma Fusco si stanno riavvicinando. Il giornalista, eliminato al grande fratello Vip, ha ritrovato la compagna fuori dalla casa. I due si erano allontanati quando Attilio si era lasciato trasportare dall'attrazione nei confronti di Sara Altobello. L'intesa fisica tra loro aveva spinto Mimma a fare un passo indietro. Mimma, in occasione dell'uscita di Attilio dalla casa, ha fatto recapitare al conduttore Alfonso Signorini una lettera. Mio caro Alfonso, scrivo mio caro perché da quando è iniziato il GF di periverbero della luce dei riflettori mi ha investito inevitabilmente. Mi sono trovata spiazzata. Invece grazie a te, ai tuoi suggerimenti e ai tuoi messaggi. Sono riuscita ad alleggerire il carico da copartecipante del gioco, mio malgrado. Che mi ha creato un po' di disagio per una certa estraneità al mondo dello spettacolo. Inutile dirti che finalmente è uscito abbiamo bisogno di ristabilire qualche equilibrio ma ora sono tranquilla. Ritrovarsi dopo mesi di distanza è stato indubbiamente forte, le cose da dire sono tante che due righe non basterebbero. In sostanza, deve dimostrarmi o di essere l'attilio di prima e non l'irriconoscibile giocatore da reality che crea scompiglio. Per riconquistarmi deve scalare una vetta complicata ma chi sono io per negare una seconda opportunità? Quando sono arrivato a Bari, mi ha fatto trovare suo figlio con le chiavi di casa perché era impegnata per lavoro. Ha raccontato a Tiglio in studio, poi mi ha raggiunto a casa e non è stato facile. L'ho trovata molto provata. E' stata mortificata, offesa, aggredita. Si sono affacciati avvocati che le offrivano il loro servizio legale per querelarmi e cacciarmi fuori di casa. Gli avvoltoi si sono aggirati intorno a una donna ferita e offesa. Quindi il giornalista ha concluso. Mimma non è minimamente scossa dal mio comportamento nel reality. Sapeva perfettamente quello che avrei fatto. E' rimasta scossa quando, con l'ingresso di Sara Altobello nella casa, avrei fatto che che l'hanno spinta a chiedersi a che gioco stessi giocando. Muzica Jos pătescu, jos ponta, sus cu rap-ul Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rap-ul De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rap-ul Și pentru el e de bun simță, ridic ștacheta Liric vorbință, ajungă la ea doar nasa cu racheta Să o admire nave spațiale de pe Andromeda Ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta D'aia de când mă știu textul-i plin de dude Dumele tante printre talea culte Încerc flow-uri sute la show-uri puite Cum rup capete lumea de din capă rupte Tobele bat cu inima deodată Nu le opresc, că nu-s atât